Le procedure seguite sul campo da gioco per soccorrere Morosini hanno evidenziato una condotta attiva volta a salvare la vita del giocatore, ma sono risultate non conformi alle linee guida internazionali con riferimento al mancato utilizzo del defibrillatore, che in questi casi è indispensabile. Questa la testimonianza resa dal perito della procura di Pescara, il medico legale Cristian Dovidio, ieri nel corso dell'udienza davanti al Tribunale monocratico di Pescara, presieduto dal giudice Laura D'Arcangelo, per la morte del giocatore del Livorno Pier Mario Morosini, avvenuta il 14 aprile allo stadio adriatico nel corso dell'incontro Pescara-Livorno. Dovidio è stato anche il medico che ha effettuato l'autopsia sul corpo del giocatore toscano. Nel procedimento in corso al Tribunale di Pescara sono imputati il medico sociale del Livorno, Malnio Porcellini, il medico del Pescara Ernesto Sabatini e il medico del 118 in servizio quel giorno allo stadio, Vito Molfese, i tre devono rispondere di omicidio colposo relativamente alle operazioni di soccorso, esaminate anche attraverso la visione dei filmati. Dovidio ha evidenziato che il primo ad arrivare dopo 12 secondi dal momento in cui Morosini si accasciò a terra fu il medico del Livorno, Malnio Porcellini, raggiunto pochi attimi dopo dal medico del Pescara Ernesto Sabatini. Le operazioni iniziali sono apparse corrette, ha detto Dovidio. Poi però è stato portato in campo il difibrillatore che non è stato utilizzato né sul terreno di gioco né sull'ambulanza. Dovidio ha poi parlato della questione legata alle responsabilità di chi avrebbe dovuto intervenire e assumere il controllo delle operazioni, chiamando in causa il medico del 118, Vito Molfese. Secondo Dovidio era il medico del 118, la persona più qualificata ed esperta, che avrebbe dovuto effettuare la rianimazione di un paziente in arresto cardiaco. Una conclusione questa contestata non solo dalla difesa di Molfese, ma anche dal professor Del Caterino. Il tribunale che punta a concludere la fase istruttoria entro l'estate ha anche fissato il calendario delle prossime udienze. Si torna in aula il 18, 19, 20 e 22 luglio.